Come ti chiami? Claudia. Ciao Stefano. Ciao. Ciao Giampiero. Ciao. Ciao Elena. Ciao. Ciao Massimo. Ciao. Come stai? Molto bene grazie. Ciao Silvana. Ciao. Chi sei? Letizia. Ciao Cristina. Ciao Alberto. Come stai? Benissimo. Ciao Maria. Ciao. Io mi chiamo Maria. Ciao Mariela. Ciao. Ciao Mirka. Ciao. Come stai? Ciao Antonio. Ciao. A volte mi guardo intorno e mi sento sola. Ma veramente sola. Beh senti, sai che ti dico? Che mi dispiace per te ma io a questo punto devo pensare a quello che devo fare. Addirittura. Dai, passala, passala. No, no, no. Sì, passala. Passala. Tira, tira, tira. E sì, il gol. Finalmente. Il gol. E più mi dici che la madonna alla mattina senza far vedere la spara un colpino in aria e la dà via. E noi? Tocco ma cuore. Tocco ma cuore. Andate qui, da là. Viene tante cose da fare. Allora? Allora? Non vado in crociera? Ah, ti capisco. Sì, la crociera non è che mi piaccia molto, eh. Però l'avrei potuto dare a qualcuno e allora, sai, per regalare un biglietto in crociera magari uno dall'altro. potrei avere qualche chance in più. Ah, ah, ah. Ancora più allegre. Ah. Rabbioso. Oh, porra. stupido ma veramente cioè così improvviso ma che bella sorpresa ma piacevolissima grazie faccio così non me ne faccio accorgere mi piace sì non esageriamo stasera cosa dici? ci vediamo? usciamo? mi accompagna il cinema? qualcosa è il dubbio che il tuo marito ti abbia tradito ti ammazza non ho capito aspetta ragione no amore amore aspetta aspetta scusa 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 perdono 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 torno indietro voglio solo capire ma lei com'è? è magra? veramente? ramia? sempre lo stesso mi aveva detto che mi chiamava però lo sapeva che doveva chiamarmi a quest'ora adesso arriviamo in ritardo poi il regista mi sgrida dice sempre che arrivo in ritardo invece magari è colpa degli altri troppo facile per te parlare così eh? donne? eh 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 che donne tu ne hai un sacco infatti sei un puttaniere io no? cosa posso farci? io ho amato una sola persona e amo ancora la mia vita le strade sono deserte deserte e silenziose un'ultima carrozza cicolando se ne va dai veramente no ma che bello triste malinconica innamorata adesso ti stai divertendo o sei teso? no no beh minima intenzione sotto le luci sotto le cose però è piacevole l'idea ti piace? beh beh siamo onorati della tua presenza grazie